ciao ragazzi e bentornati sul mio canale io sono il lanciere è arrivato anche maggio e mi sono arrivati un po di pacchetti in queste ultime settimane le andremo ad aprire tutti in questo video dedicato agli arrivi di aprile ragazzi prima di iniziare a spacchettare però io come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non avete fatto attivare la campanella e soprattutto lasciate un bel like a questo video detto questo direi di ripulire un attimo il tavolo e iniziamo ad aprire questi pacchetti non mi ricordo praticamente nulla di quello che c'è all'interno abbiamo fatto un po di spazio e partiamo subito con il primo sarà tutto da scoprire allora ragazzi bellissimo con un bel tovagliolo di carta vediamo un po che cosa c'è qui dentro allora protezione al minimo al minimo ragazzi per questo primo pacchetto non molto bene vabbè vediamo un po come stanno queste carte partiamo subito con una bella parallela numerata di calidù culibali a 25 e poi ci sono un po di carte ben 5 dei subset della raccolta danras elite che è uscita qualche mese fa abbiamo musabarro culibali per la salernitana ampadual venezia e due spellbound di muriel la u e la r un po da pulire vabbè le carte per fortuna sono arrivate in condizioni accettabili il pacchetto è da rivedere così non si spedisce ricordatevi cercate di fare qualcosa di meglio allora andiamo avanti secondo pacchettino così va molto meglio ragazzi questo è un bel arrivo e lo andiamo a vedere subito insieme allora eccoci qua ho aperto il pacchetto queste vengono da un mega scambio che ho fatto su last sticker ragazzi con questo scambio ho completato ben due raccolte queste sono le figurine della raccolta coppa america centenario ovvero quella del 2016 usa 2016 e con queste figurine ne erano veramente un bel po completo la raccolta della coppa america andiamo a vedere quali sono le altre ne ho completate due di raccolte praticamente con questo arrivo infatti adesso ci andremo a vedere anche che cos'altro mi è arrivato la giamaica uruguay vediamo figurine di haiti 2 e l'ultimo dei tre pacchettini andiamo a vedere subito si è già intravisto qualcosa allora le ultime figurine coppa america e poi le figurine del europeo 20 20 21 tornamento ed edizione blu e con queste ho terminato anche la mia raccolta in realtà mi manca ancora una sola figurina della raccolta coppa america ma è in uno di questi pacchetti e ce l'andremo a vedere tra poco eccolo qui il pacchetto con la figurina mancante l'andiamo a trovare insieme ed eccola qui con questa finisco la mia raccolta coppa america centenario 2016 questa figurina non è tanto facile da trovare l'ho pagata su ebay circa 3 euro però mi serviva per completare la raccolta e quindi completata coppa america centenario prossimo pacchetto direttamente dalla gran bretagna una serie di carte della raccolta adrenalin xl premier league queste sono delle carte della raccolta plus allora partiamo da le limited edition allora mi è arrivato anthony gordon poi elanga in versione limited edition non firmata perché la firmata io ce l'avevo poi la ultimate di pop la ultimate di anthony ancora una limited edition e anderson e desbury hall ancora limited poi passiamo a queste altre carte ragazzi eccole qui limited edition autografate allora ne sono due e sono la signatura di brogia e kyle walker anche questa autografata stampata ovviamente quindi altre due belle carte andiamo avanti altro pacchettino andiamo a vedere qui che cosa c'è questo più o meno era fatto un po meglio allora sì queste sono delle figurine che mi servono a terminare la raccolta francese questa qui della panini carrefour panini family ed erano le ultime figurine che mi servivano a terminare la raccolta ma ne mancavano una ventina con queste la vado a terminare ovviamente termino questa raccolta senza però la parte delle figurine gold infatti in questa raccolta c'erano delle figurine speciali che potevano trovarsi eccole qua sono queste sia nella versione argentata che la versione standard che nella versione un po più rara gold quindi me ne mancano ancora un 16 18 della versione gold andiamo avanti altro pacchetto andiamo però ad aprire insieme grande non so che cos'è ed eccoci qua qua siamo ancora con le carte danrass elite è un acquisto che ho fatto da un collezionista napoletano è molto bene il pacchetto che mi ha preparato allora ci sono un po di carte parallele del napoli abbiamo una donna rass elite aspiration a 91 di fabian ruiz dovrebbe essere l'unica si poi doppia colibali sia in versione laser che in versione lava abbiamo anche la versione lava di di lorenzo e poi tre carte spellbound spellbound abbiamo la i di immobile e la b la y di morten thursby quindi ancora donnas elite andiamo avanti altro pacchettino ragazzi ne sono veramente tanti andiamo a vedere qui che cosa mi è arrivato restiamo in tema parallele e numerate vi dico già perché mi sono concentrato un bel po' su recuperare le card scorre donnas numerate del napoli che è la tematica che io faccio abbiamo una parallela numerata di insignia 49 abbiamo culibali e doppio culibali culibali base e culibali la versione parallela sempre donnas poi abbiamo oltre a insignia anche la parallela numerata sempre a 49 di fabian ruiz quindi altro bel bottino napoli continuiamo con un altro bel pacchettino ben preparato e sembra grande ma in realtà all'interno ci dovrebbe essere una sola carta però il pacchetto è fatto molto bene la carta spero che sia salva allora andiamo a recuperarla ed eccola qua l'abbiamo iniziata a vedere ed eccola qui è la carta momentum di di nico gonzalez ragazzi carta momentum di nico gonzalez non sta messa malissimo un po un po la parte inferiore e la parte superiore non perfette però la carta di nico gonzalez e adesso mi manca l'ultima dovrebbe essere luis felipe della della lazio l'ultima carta momentum e termino anche la raccolta adrenaline 2022 2023 intanto continuiamo a spacchettare ce ne sono ancora due da aprire andiamo a vedere qui che cosa è arrivato altro pacchettino piccolo allora c'è una sola carta ed è la carta ballon de oro di vinicius e con questa anche termino il giro di carte dorate della raccolta della raccolta della liga 2022 2023 in attesa che mi arrivi l'ultimo pacco con la momentum oro e terminerò anche quella raccolta ultimo pacchetto intanto per noi abbiamo rimosso i 10 km quadrati di scotch che c'erano e vediamo qui che cosa mi è arrivato allora ragazzi eccole qui allora è il pacchetto speciale limited edition special edition più che altro calciatori adrenalin 2022 2023 ne sono due e sono i pacchetti speciali del napoli all'interno di questi pacchetti si trovano solo ed esclusivamente le carte del napoli eccoli qui ragazzi è una non è niente di particolare però sono pacchetti speciali che mi faceva piacere avere in collezione detto questo ragazzi abbiamo spacchettato un mare di pacchetti penso che vada bene così e sono quelli che mi sono arrivate nelle ultime settimane di aprile molte carte dedicate al napoli soprattutto parallele delle raccolte scor e donna salita e poi c'è un po di roba varia che mi serviva a terminare delle raccolte detto questo ragazzi il video termina qui però prima di salutarvi io vi ricordo come sempre l'iscrizione al canale che è gratuita attivare la campanella e soprattutto lasciate un bel like a questo video e con tutte queste bellissime carte di varie raccolte io a questo punto vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao